È necessario dare un adeguato livello di regolazione alle emergenti formule del trasporto non di linea diverse dai servizi di taxi e noleggio con conducente basate su piattaforme tecnologiche che offrono servizi di intermediazione su richiesta e con finalità commerciale. Cioè praticamente si sta parlando di Uber. Lo scrive l'autorità dei trasporti in una segnalazione a governo e Parlamento proponendo di introdurre obblighi specifici attinenti sia alle piattaforme che ai requisiti del conducente che alla qualità e alla sicurezza del servizio. L'autorità informa la nota e partita da una approfondita indagine sul recente diffuso utilizzo di tecnologie informatiche applicate alla mobilità delle persone, sui suoi effetti sia sulla domanda e sui comportamenti degli utenti che sul fronte dell'offerta dei servizi. Si tratta in sostanza di Uber Pop, l'applicazione recentemente bloccata dal Tribunale di Milano per concorrenza sleale nei confronti dei tassisti. L'atto, prosegue la nota, muove dall'offerta di una pluralità di tipologie di servizi di autotrasporto di persone, oggi resa possibile dalla diffusione di tecnologie mobili competitive. La domanda di mobilità, specie per le fasce di reddito basse per i giovani, si orienta verso sistemi basati sulla flessibilità e sulla condivisione di risorse tipici della sharing economy. L'autorità si propone quindi di far emergere questo mercato affinché domande e offerte di servizi possono incontrarsi in modo trasparente nel rispetto delle regole. L'autorità propone anche il mantenimento dell'attuale connotazione del taxi come servizio di trasporto pubblico non di linea, che assicura l'effettuazione della corsa a richiesta e la copertura del servizio nell'arco dell'intera giornata, nonché la possibilità per i taxi di praticare sconti, di costituirsi come impresa, in tal caso di poter cumulare più licenze, di ampliare l'utilizzo del servizio per servizi pubblici flessibili destinati a specifiche categorie di utenti, nonché la possibilità per il tassista di acquisire servizi da fonti diverse e senza vincoli di esclusiva. Le proposte formulate dall'autorità prevedono anche l'eliminazione dell'obbligo per il titolare dell'autorizzazione del noleggio con conducente di fare rientro in rimessa dopo ogni singolo servizio e l'affidamento alle regioni dell'individuazione dei bacini ottimali sovracomunali di gestione dei servizi di autotrasporto di persone non di linea attualmente affidati ai singoli comuni.